Quando mi sono trasferita a Melbourne avevo già concluso il mio corso di studi con una laurea in lingua e letteratura estreniere e praticavo l'inglese a scuola e all'università già da più di dieci anni. Quindi sapevo leggere l'inglese senza problemi, lo sapevo anche scrivere discretamente e quindi ero convinta di sapere l'inglese. Quando arrivai a Melbourne impiegai otto mesi a capire quello che mi dicevano gli altri perché a parte la pronuncia australiana però non riuscivo a seguire una conversazione, mi perdevo. E uno dei modi che avevo escogitato per migliorare il mio inglese anche perché avevo cercato di iscrivermi a qualche scuola d'inglese per migliorare appunto le mie conoscenze però la prima cosa che facevano è farmi fare un test d'ingresso e dal test d'ingresso risultava che io sapevo già molto bene l'inglese per cui non trovavo una scuola dove poter fare semplicemente conversazione. Allora avevo escogitato questa cosa qua. In Australia c'è una radio che si chiama 3RPH che significa Radio for the Printed Handicap per le persone che non sanno leggere, hanno problemi a leggere o vedono male. E la cosa fantastica che fa questa stazione radio è che prende tutti i giornali la mattina e li legge da copertina a copertina, dall'inizio alla fine. Quindi cosa facevo? Io prendevo il quotidiano locale di Melbourne The Age accendevo, allora che sapevo che leggevano il The Age, 3RPH e poi seguivo articolo dopo articolo quello che leggevano gli speaker quindi avevo davanti a me il testo scritto e quindi mi limitavo a sentire la pronuncia. Tra l'altro le persone che lavorano, che offrivano questo servizio alla radio erano tutti volontari e spesso i volontari erano persone di una certa età che quando lavavo in pensione, che quindi maestri in pensione persone con una pronuncia fantastica, comprensibilissima. E' così che ho migliorato notevolmente il mio inglese fino appunto dopo otto mesi che stavo in Australia ho finalmente cominciato a prendere parte alla vita sociale nel senso che quando mi trovavo a una cena o con amici e mi chiedevano qualcosa ero non solo in grado di rispondere ma anche di seguire poi quello che gli altri dicevano soprattutto quando si incrociavano le conversazioni che allora è particolarmente difficile seguire. Comunque un consiglio per imparare una lingua la cosa che aiuta di più è la frustrazione solo quando vi sentite veramente frustrati imparate qualcosa.